In attesa dell'arrivo della fiaccola del perdono di Papa Celestino V nel suo viaggio verso la Porta Santa, che si aprirà il prossimo 28 agosto, una grande festa è stata organizzata per venerdì 19 agosto nei pressi del centro polifunzionale di San Sebastiano a Corbellino di Fagnano Alto, una festa a base di tartufo nero. Il famoso tubero di Fagnano, cucinato in maniera facile per gustarlo meglio, sarà protagonista assoluto della serata. Suoi compagni di viaggio, la buona musica pop, rock e italiana, proposta dal famosissimo gruppo aquilano Gli Gaff & Friends, con un ottimo vino e della buona birra a fare d'accompagnamento. Il tartufo di Fagnano Alto, il comune dell'Aquilano che fin dagli anni Ottanta ha cercato di valorizzarne il valore culinario, è da sempre ricercato dai maggiori distributori di tutta Italia per il profumo inconfondibile e il sapore sopraffino.